Allora ragazzi, ho appena finito di vedere WWE Payback 2023 e quindi è tempo di recensione. E dunque partiamo subito col primo grandissimo match della serata, Steel Cage Match, capitolo conclusivo fra Becky Lynch e Trish Stratus. Ragazzi, era da tantissimo tempo che non si vedeva in categoria femminile un match così bello, così intenso e così longevo. Mamma mia, tantissima roba, il modo migliore per aprire questo payback. A vincere giustamente è stata Becky Lynch che nel finale di match è riuscita a contrastare non solo Trish ma anche Zoe Stark che si è entromessa per ostacolarla. E quindi questa cosa, il fatto che lei sia riuscita a vincere da sola contro due, rende la sua vittoria ancora più epica, ancora più memorabile. Poi nel post match Trish scarica Zoe Stark che però non ci sta e la mette K.O. E quindi ragazzi mi sa tanto che finalmente la carriera lottata di Trish giunge al capolinea. Match davvero molto molto bello ragazzi. Adesso passiamo al secondo match della serata, LA Knight contro The Meads, arbitro speciale John Cena. Signori John Cena è stato veramente il fiore all'occhiello di questo pay per view, ha fatto di tutto. Ha fatto rappresentatore, ha fatto arbitro speciale, ha fatto intervistatore. Ragazzi, John Cena il suo ritorno ha fatto non bene, benissimo alla WWE, veramente strepitoso e poi ha arbitrato in una maniera veramente fantastica. Il match che è stato molto molto bello, questo match aveva bisogno di un'aggiunta del genere per essere ancora più interessante. Infatti così è stato, a vincere ovviamente è stato LA Knight che pone fine a questa mini rivalità con The Meads che devo dire è stata abbastanza divertente. Poi passiamo al match valevole per il titolo degli Stati Uniti, match di qualità abbastanza sufficiente che però mi ha intrattenuto sinceramente. Quindi buono, Rey Mysterio, campione in carica contro lo sfidante Ossinteuri, rivincita. A vincere a confermarsi campione è stato Rey Mysterio che chiude per sempre questa rivalità. E quindi io mi auguro che in futuro ci sia un bellissimo scontro fra Rey e Santos per il titolo. Ne abbiamo tutti bisogno di vedere questo match. Poi passiamo a quello che è stato uno dei due, non so se è il match migliore della serata perché qua c'è davvero tanta concorrenza col main event. Però senza dubbio uno dei due match migliori di tutta la serata. Quello valevole per i titoli di coppia indiscussi. Uno Street Fight match, da un lato i campioni in carica, Kevin Owens e semi-Zayn. Dall'altro gli sfidanti, il Judgement Day, quindi Finn Balor e Damian Priest. Yes, match, cioè è inutile dirlo, bellissimo, bello violento, veramente hanno sfruttato ogni singolo punto sia del ring che esterno, l'area del pubblico, hanno fatto di tutto ragazzi. Hanno fatto un grandissimo match. La categoria di coppia meritava un bel match del genere perché le difese titolate di Owens e Zayn, sì, sono state buone, però diciamo che serviva un match ancora più figo che alzasse ulteriormente l'asticella della qualità della categoria. Match davvero incredibile, imperdibile. A vincere è stato però il Judgement Day, sono state decisive le intromissioni di Real Replay, Dominix Mysterio e JD McDonagh. Intromissioni super decisive, ragazzi, Omens e Zayn in due non potevano fare i miracoli, però ci hanno provato fino all'ultimo, ci hanno provato, però è ovvio che alla lunga non si può andare troppo avanti. Quindi Judgement Day continua a riempirsi di oro. Titolo mondiale femminile, valigetta, titolo nordamericano di NXT, titoli discussi di coppia, ragazzi, manca solo che Priest incassi la valigetta e diventi campione mondiale e siamo a posto. Il Judgement Day è la nuova vera fazione dominante della WWE, diciamo che è la nuova bloodline, però una bloodline dove gli atleti sono full time, signori. Adesso passiamo al match, volevo per il titolo del mondo femminile, quindi quello di Real Replay contro Raquel Rodriguez. Forse questa è stata la prima vera difesa titolata di Real Replay, la prima vera difesa dura, solida, importante contro un atleta forte, distanza. Finalmente ci voleva un match del genere per questo titolo e anche qua in questo caso, un po' come lo Steel Cage da tanto tempo, ragazzi, considera un match così interessante, in particolar modo per un titolo mondiale. Era ora match bello, vince il Real Replay con l'aiuto di Dominic Mysterio, quindi abituiamoci all'idea che il Judgement Day probabilmente costruirà i suoi successi con queste cose qua degli aiuti, quindi poi è ovvio che un giorno tutto ciò si sgretolerà come è successo con la bloodline, però per ora credo che ancora non ci siamo a quel punto. Il Judgement Day adesso è super lanciato, ve l'ho detto, secondo me manca solo il titolo mondiale e lì veramente arriverà qualcosa di incredibile. Real Replay quindi vince e conserva il titolo, poi passiamo al main event, che assieme al match per titoli di coppia è stato il match più bello della serata, lunghissimo, bello, un match per il titolo mondiale in vecchio stile, old school, lungo, longevo, fasi tecniche, fasi dinamiche, abbiamo visto di tutto, veramente, tattiche, bellissimo. Non ho altre parole per riscrivere questo match, ecco. Da un lato avevamo il campione in carica Seth Rollins, dall'altro lo sfidante Nakamura. Nakamura che non è riuscito a vincere il titolo, ma ragazzi ha messo in serissima difficoltà Seth Rollins puntando proprio come aveva giurato sul suo punto debole, cioè sulla schiena. Seth riesce a vincere con atroci sofferenze, meno male che nel post-match Nakamura non ha infierito per favorire un eventuale incasso di Priest, poi Priest non ha neanche cercato di incassare, quindi finale pulito, Rollins esulta, però si vede che era malconcio. Quindi è probabile che nelle prossime settimane si possa puntare su questa cosa qui che Seth sta iniziando a sentire la fatica di questo regno e che quindi la sua schiena potrebbe iniziare a fare crack. Quindi attenzione per la prossima difesa titolata, però per ora Seth ancora campione direi giustamente. Ragazzi, onestamente, allora io non ho ancora letto i pari sul web su questo pay-per-view, però penso che chi lo critica sia abbastanza ignorante e che sia anche cattivo e prevenuto, perché questo pay-per-view non si può criticare per essere un pay-per-view di natura puramente, e sottolineo, puramente transitoria, mancava pure Roman Reigns. Ragazzi, è stato un pay-per-view bellissimo, cioè, bello, bello, per me è stato bello. Voto 9 su 10, ragazzi. Qui sbavature non ne trovo neanche, perché l'evento è stato veramente bello. Dall'inizio alla fine, errori, poco e niente, tanta, tanta roba. Cioè, se fossero così tutti i pay-per-view transitori, ragazzi, sarebbe veramente fenomenale. Ultimamente la WWE sta steccando veramente poco con questi eventi. Quindi tanta, tanta roba. Da menzionare il Grayson Waller Effect con ospite Cody Rhodes, che ha fatto un annuncio incredibile, Jay Uso è tornato in WWE e ha siglato un accordo con il roster di Raw. Quindi gli Uso adesso sono ufficialmente separati. Sono ufficialmente due atleti singoli, quindi Jimmy Uso a SmackDown e Jay Uso a Raw. E quindi, ragazzi, sarà curioso capire quale sarà il percorso di entrambi gli atleti sammoani. Quindi questo era per chiudere. Quindi pay-per-view veramente molto bello. Attendo i vostri pareri qua sotto nei commenti. Grazie mille a tutti quanti per aver seguito il video. e vi rinnovo l'appuntamento per un prossimo imperdibile video. Grazie ancora a tutti ragazzi. Ciao!